grossi problemi in più un terzo elemento secondo me è il fatto che comunque l'amministrazione che sta vivendo questo momento di grande di grande crisi in cui il sindaco prima c'è poi dopo lo rimuovono poi non si sa se è sospeso poi sospeso poi ritorno e poi non si sa se dovrà essere sospeso di nuovo perché ci sono in atto altre territorio è uguale se il territorio non viene fatta una attenta manutenzione controlli la raccolta degli indumenti e la legge che ha previsto una modalità di attuazione differente per il sindaco e per un deputato non è la stessa cosa